Nel corso della notte in Napoli, Agrigento, Biella, Terni e Santa Maria Capoetre, militari della compagnia di Castello di Cisterna, notata esecuzione ad una misura cartolare di custodia cartolare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica a direzione distretto all'antimafia, nei confronti di 17 indagati, 4 in libertà, 11 già detenuti in carcere e 2 già gli arresti domiciliari per altra causa, gravemente indiziati in concorso tra loro e di vario titolo, di associazione di tipo mafioso finalizzata alla ricettazione, detenzione e porte illegali di armi ed esplosivi e tentato omicidio ed associazione finalizzata a traffico di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa svolta congiuntamente dalla sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna e dalle stazioni di Brusciano e Marigliano sotto la guida della direzione distretto all'antimafia del capologo partenopeo dal dicembre 2017 al dicembre 2020 ha consentito di documentare l'operatività di due clan camorristici avversi, reghe ed esposito Palermo, entrambi operanti in Brusciano e centri mitofi ed etiti fra l'altro alla gestione di alcune piazze di spaccio ricadenti nei locali quartieri di edilizia popolare ex legge 219-81. Ricostruire in particolare le dinamiche consumative inerenti due episodi dirittuosi avvenuti a Brusciano il 3-12-2017 in danno di equiabile Fabio allorquando un commando armato composto da più persone aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'uomo poi rimasto ferito. 2012-2017 in danno di Turboli Vincenzo nei cui confronti venivano esplosi vari colpi d'arma da fuoco che lo ferivano gravemente. Nella circostanza inoltre rimaneva altresì ferito accidentalmente poiché di passaggio sulla pubblica via anche il padre di un militare dell'arma in forza alla sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna. Documentare l'esistenza di stabili strutture organizzative ai cui vertici si ponevano in maniera contrapposta da un lato Palermo Francesco e dall'altro Rega Tommaso alias o Chirichiello, in entrambi i casi dediti alle estorsioni, agli attentati dinamitardi, aerati contro la persona in materia di armi al traffico ed ingenti quantitativi sostanti e stupefacenti di varia natura, poi commercializzate all'interno delle locali piazze di spaccio.